Bianchi Industrie ha una mission molto precisa, è di quella di soddisfare le esigenze dei suoi consumatori e dei consumatori finali, con l'obiettivo di essere sempre leader a livello di innovazione. Da sempre la nostra agenda si è affacciata ai mercati mondiali, cercando di diffondere i nostri marchi e i nostri valori. Nell'ultimo quadrierno gli investimenti in comunicazioni, in scelte e le venti sono aumentati vedendosi presenti in diversi continenti e riuscendo ad aprire mercati di grandi potenzialità. Abbiamo un solo obiettivo, ogni volta che una persona beve un caffè, un cappuccino o consuma da una delle nostre macchine, deve vivere un'esperienza di soddisfazione. Questo obiettivo si traduce in lavoro, impegno e prodotti che facciano la differenza. Bianchi Belli, il gusto per l'innovazione. 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 Smokin'o innovazione. Il gusto per l'innovazione. Il gusto per l'innovazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto tornando con il piede. Sto tornando piano apposta. Almeno piano hai comunque una sorta di controllo. Rivolgo sempre a misura a muro, qui correndo un po', perfetto. Sono solo un po'. Ora andiamo a vedere la spazio. Mi sono letto. Sei da tirare? Non sono letto. Bene Marco ti chiederà il senso. Sin da bambina il profilo di queste colline ha rappresentato per me un paesaggio accogliente. Ho sempre pensato che fosse importante conoscere il mondo, ma anche che questo fosse il luogo perfetto in cui tornare e dare valore alle proprie origini. Mi chiamo Carolina Verniano. Da oltre dieci anni lavoro nell'azienda di famiglia guidata da mio papà Franco e da mio zio Carlo. Insieme a mio fratello Enrico e mio cugino Pietro rappresento la quarta generazione. Caffè Verniano è la più antica torrefazione d'Italia. Da oltre 130 anni lavoriamo per esprimere al meglio il saper fare del nostro paese ed esportiamo l'autentico espresso italiano in tutto il mondo. Appartenere ad una tradizione di famiglia è un dono prezioso. Sono cresciuta respirando ogni giorno l'aroma dei chicchi appena tostati e ho scelto di raccogliere l'eredità dei miei antenati per portare avanti il sogno iniziato da mio bisnonno Domenico nel 1882. È un'emozione sempre unica pensare che il profumo di quelle miscele parte ancora da queste colline e arriva in tutto il mondo con la stessa cura e la stessa passione di un tempo. A pochi passi da questo luogo nel 1882 il nonno Domenico quando ho la prima torrefazione di drogheria. Io ho un ricordo molto vivido di questo posto perché mio padre quando eravamo piccolini si portava tutte le domeniche a trovare le zie che conducevano l'attività. Noi venivamo molto volentieri perché le zie ci regalavano le caramelle quindi facevamo scorte per tutte le settimane. La cosa che mi ha sempre impressionato è stata la bellezza di questo posto tutto in legno tirato lucido ordinatissimo con dei profumi che erano meravigliosi. Il profumo del caffè appena tostato era quello che veramente indebriava e forse è questo profumo che ci ha portato ad amare questo prodotto e iniziare a sviluppare questa attività meravigliosa. Quello che facciamo da anni è raccontare il rito dell'espresso valorizzando ogni dettaglio nel rispetto della materia prima. Abbiamo scelto di preservare la nostra artigianalità mantenendo il processo di tostatura lenta e tradizionale delle singole origini. Pensiamo sia il modo migliore per esaltarne l'aroma e portarlo in tazza. Fare il caffè è molto più di una semplice produzione industriale. È un patrimonio che va protetto, tramandato e custodito. Da volte 40 anni compro caffè e compro il caffè non è una cosa semplice. Tutti gli anni i tipi di caffè cambiano, cambiano secondo il tempo, secondo le piogge, secondo il clima. Lo farei per tutta la vita. Ancora altri 40. Questo è il luogo dell'azienda che preferisco. È qui che tutto è inizio, dove il caffè ancora verde è pronto per essere tostato e miscelato. Ho deciso di seguire il mestiere di mio padre perché penso che sia un'arte affascinante. Selezionare le origini e definire la tostatura per ottenere il meglio da ogni chicco. Le nostre miscele sono ricette che portano in una tazzina profumi e aromi di tutto il mondo. Credo che il modo migliore di fare impresa oggi sia quello di non sentirsi mai arrivati. Ogni giorno è un'opportunità per sperimentare e intraprendere nuove sfide. Dal 1882 portiamo innovazione in un mondo di tradizione. La combinazione perfetta per continuare a crescere e anticipare il mercato. Chi sceglie il nostro caffè sceglie un prodotto che arriva dal passato e guarda al futuro. Che si tratti di mocha, di capsula o di espresso, le nostre miscele sono sempre frutto di una selezione accurata. Un impegno che abbiamo preso nei confronti dei consumatori e che rispettiamo quotidianamente. Il vero espresso italiano non potrebbe esistere senza le sapienti mani dei nostri baristi. Quando penso agli oltre 6.000 locali che serviamo in Italia, penso ad una rete di grandi professionisti che ogni giorno porta in tazza un concentrato di cultura e si impegna a valorizzare al meglio le nostre miscele. Essere un barista Caffè Verniano significa prima di tutto conoscere la nostra storia, vivere l'azienda ed entrare in contatto con chi lavora qui ogni giorno. Tutto parte dalle persone, dalla condivisione di cultura e di conoscenza. È quello che è la base della nostra Accademia Verniano, dove ogni giorno formiamo baristi che arrivano da ogni parte del mondo per imparare i segreti del nostro caffè. Con la nostra insegna Caffè Verniano 1882 abbiamo creato una rete di oltre 130 caffetterie in tutto il mondo, la miglior vetrina che si possa desiderare. Ogni volta che ci poniamo degli obiettivi a breve o a lungo termine, pensiamo sempre in grande. È il motore della nostra azienda, quello che ci ha permesso di vincere sfide che molti pensavano impossibili e di arrivare in oltre 90 paesi nel mondo. Così siamo entrati nelle case, spero nel cuore, di milioni di persone. Credo che nella capacità di sognare risieda la forza di Caffè Verniano. E credo che la vera sfida sia trovare ogni giorno la chiave migliore per condividere i nostri sogni, racchiuderli in una tazzina e raccontarli al mondo, espresso dopo espresso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 E tu Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Spinelli Spinelli Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti Buongiorno Bruno Grazie a tutti 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 E noi Grazie a tutti 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 Abbiamo abbiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buon lavoro e buon lavoro Grazie a tutti 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 E noi Grazie a tutti 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 di essere Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti e a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie 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 a tutti e a tutti Grazie 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 a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e questo Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e su E a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti Mi sentivo E a tutti E a tutti Grazie a tutti E 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 la E a tutti 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 E su E a tutti 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 E su E a tutti 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 E tu E a tutti 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 E un E a tutti 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 E noi E in E a tutti E un E su E su E a tutti E la E su 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 E E su 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 E su